Ciao a tutti, io mi chiamo Marco Bonatta, sono fotografo, mi occupo di comunicazione soprattutto nel campo turistico, di fotografia soprattutto nel campo turistico e vi ringrazio per essere venuti a visitare il mio sito, vi do il benvenuto e oggi parliamo un attimino dell'importanza che ha l'emozione nella fotografia turistica. Ma prima di iniziare con questo argomento, meglio per collegarci a questo argomento, voi sapete cosa che le statistiche dimostrano che la maggior parte delle visite ai siti internet, credo siano intorno al 60-70% durano qualcosa come pochi secondi, 10 secondi, 8 secondi? Bene è così, è così perché c'è questo meccanismo psicologico, questo meccanismo umano che è quello che chiamiamo la prima impressione. Allora noi tutti gli esseri umani tendiamo a dare un giudizio tra virgolette definitivo ma comunque molto deciso, molto drastico, un giudizio basato sulla prima impressione. Noi guardiamo una situazione, una persona, un sito internet, lo guardiamo per pochi secondi e ci siamo fatti un'opinione che può essere positiva o negativa. Se questa opinione è negativa, nel caso specifico di un sito internet, abbandoniamo il sito. Ecco perché la maggior parte delle visite sui siti internet durano pochi secondi. Quindi il guaio poi tra le altre cose è che mentre con le persone noi abbiamo la possibilità, anche se abbiamo bisogno di altre dieci impressioni positive per recuperare, con un sito internet è molto difficile che il mio utente, il mio potenziale ospite, tornerà sulla nostra pagina. Ecco perché è fondamentale che la prima impressione di un sito internet sia positiva. E uno degli elementi, forse il più importante, gioca insieme chiaramente ad altri, ma forse l'elemento più importante perché questa prima impressione positiva, sapete qual è? Immagino che lo immaginiate, è la fotografia. La fotografia è uno dei, nel campo turistico, è una delle cose fondamentali per attirare dal primo acchitto per far sì che la prima opinione, che la prima impressione sia positiva. Noi sappiamo che, appunto, se la prima impressione è positiva, è facile, è molto più facile, diciamo non assolutamente facile, ma è molto più facile, che poi l'utente resti sul nostro sito e continui a navigare e quindi ci dia la possibilità di fare una prenotazione. Allora, la fotografia nel campo turistico è molto più importante che in altri settori. Il marketing turistico si deve basare al 100% su che cosa? Sulle emozioni. Le emozioni sono il motore, sono l'argomento per cui un potenziale cliente, un potenziale ospite decide di venire al nostro albergo, decide di venire nella nostra città, decide di fare quella vacanza in quel momento lì. L'ospite ha delle aspettative, ha delle aspettative che sono totalmente emozionali, certo, conta il prezzo, contano un sacco di cose, però la cosa principale sono le emozioni. Quindi la fotografia deve trasmettere emozioni positive, la fotografia deve trasmettere quelle emozioni che l'ospite, che il potenziale ospite si aspetta di ricevere. Cioè, nel momento in cui l'ospite sta guardando le fotografie delle mie stanze, della mia struttura, dei miei servizi, deve ricevere quella emozione positiva che riceverà nel momento in cui entra in albergo da me. Bisogna essere coerenti con la comunicazione, bisogna essere coerenti con la fotografia, bisogna che la fotografia mi dia esattamente quelle emozioni che l'ospite avrà nel momento in cui arriva da me nella stanza, arriva da me in albergo. E questo è il compito del fotografo. Il compito del fotografo è, con le immagini, trasmettere quelle emozioni. Quello che io faccio, quello che voglio fare, è dare all'ospite del mio cliente esattamente quell'emozione che vivrà quando entrerà in quell'albergo. Ed è quell'emozione che io vivo entrando in quell'albergo. Cioè, io sono una persona nuova che arriva in quell'albergo, vivo quelle emozioni, vedo quei locali, quelle stanze, quei servizi, quella emozione e cerco di trasmettere quell'emozione all'ospite. La fotografia turistica è esattamente questo. Il mio compito è quello di trasmettere al potenziale ospite del mio cliente quelle emozioni positive. Il mio compito è far sì che la qualità del processo della vendita della stanza, della vendita del servizio, migliori. Il mio obiettivo per i miei clienti è più qualità, maggiori, utili. Questo è il concetto. Io voglio che nel momento in cui l'albergatore investe dei soldi facendo un servizio fotografico, se investi 1.500€, se investi 1.000€, se investi 2.000€, che quei soldi li rientrino il più in fretta possibile e nel migliore dei modi. Io ti invito, vi invito fino a questo momento a contattarmi, a proseguire la navigazione del sito, a guardare le foto, perché poi sono quelle che parlano più di me. Guardate le foto, io vi invito fin da ora a chiamarmi al numero di telefono in sovraimpressione o a contattarmi via email agli indirizzi che vedrete e troverete sul sito. Grazie, grazie dell'attenzione e a presto. Saluti!